È in salita il percorso di riattivazione del tapirulano del terminal di Colle Maggio, la gara per poter finalmente iniziare i lavori è andata deserta dopo che era stato approvato il progetto esecutivo. L'importo a base d'astra era di circa 950 mila euro, una cifra congrua, ha chiarito l'assessore alla mobilità Paola Giuliani, che giustifica il fatto con la poca disponibilità di ditte in questo momento impegnate ai lavori di appalto più grandi a Roma, per esempio. Come è noto, il responsabile per l'attuazione del progetto è l'ufficio speciale per la ricostruzione, diretto dall'ingegner Salvo Provenzano. L'USRA, da quel che si sa, è in consultazione con il Ministero per riproporre la gara in tempi celeri. Questo perché, anche se non ci sono scadenze per i lavori e i soldi sono già in cassa dal 2012, la riattivazione del tapirulano è un punto essenziale per il decollo del megaparcheggio. Il servizio di collegamento con Piazza Duomo tramite tunnel è importantissimo. In 500 metri si unisce il parcheggio al centro. I lavori non prevedono solo la riattivazione del tappeto mobile, ma anche la sostituzione del passamano e degli attuatori elettrici, che permetteranno al Comune di avere un risparmio sul costo dell'energia. La storia del tapirulano è lunga e complessa. L'ultima manutenzione risale al 2002 e dal 2009 è fermo, senza manutenzione. Oltre ai lavori ci saranno interventi per l'illuminazione, verrà sostituito l'impianto e sulla videosorveglianza. C'è un po' di rammarico per questo slittamento, uno per l'utilità dell'opera che è indiscussa e due perché si voleva procedere parallelamente ai lavori per il collegamento meccanizzato di Valerendina, di quest'azione appaltante e il Consiglio regionale. Il discorso del tapirulano è molto importante. L'amministrazione guidata da Biondi in questi anni ha tentato il tutto e per tutto, con la struttura per rilanciarla e far parcheggiare gli aquilani a quel parcheggio. Operazioni di restyling e gratuità del parcheggio stesso. Ma a parte i grandi eventi cittadini, non c'è ancora la cultura e il non funzionamento del tappeto mobile, purtroppo limita molto l'utilizzo.